Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.